signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite su questo canale e questa settimana continuiamo il nostro discorso su gli npc che ruotano attorno al gruppo dei personaggi giocanti cominciando a fare un discorso su gli archetipi del personaggio fino ad ora abbiamo parlato di qual è la funzione meccanica dei png all'interno della quest o della campagna adesso però bisogna ritornare alla teoria narrativa vera e propria per vedere chi sono e che cosa fanno questi png all'interno della macroeconomia della quest cominciamo quindi con questa settimana come ho detto a parlare degli archetipi e iniziamo proprio da quei png che per un modo o per l'altro saranno favorevoli o comunque alleati dei personaggi giocanti in questa e nelle prossime settimane parleremo molto di quelli che sono i personaggi archetipali quindi cominciamo con una precisazione importante che cos'è un personaggio archetipale ora per rispondere a questa domanda in maniera appropriata bisognerebbe fare un corso accelerato di teoria narrativa e andare a scomodare carly young e pirandello ma voi siete delle persone impegnate quindi per quanto riguarda il gioco di ruolo noi ci limiteremo a dire che un personaggio è archetipale quando il ruolo che ha all'interno di una storia è riconducibile a un tipo di funzione universalmente diffusa ed è quindi riconoscibile perché fa parte del bagaglio collettivo di conoscenza dell'intera umanità in pratica un personaggio archetipale è un personaggio che all'interno della propria storia ricopre un ruolo quasi perfettamente o del tutto perfettamente sovrapponibile con quello che un altro personaggio ricopre all'interno di un'altra storia possiamo dire quindi che i personaggi archetipali sono i trop quando si parla di personaggi e se adesso state guardando lo schermo aggrottando le sopracciglia il video su che cosa sono i trop ve lo lascio qui in alto così potete andarlo a recuperare altra precisazione meno importante ma noi in questo video anche nei video precedenti ci siamo sempre riferiti a questo genere di personaggi come agli alleati del party gli amici del party per beneficio di inventario il termine tecnico e bisognerebbe usare e deuteragonisti cioè coloro che aiutano nell'impresa questo vi può servire per fare i figli con i vostri amici nel caso dovreste mai parlare di questo argomento con qualcuno finita questa parte teorica quindi andiamo a vedere nel dettaglio quali sono questi archetipi iniziando proprio dagli archetipi degli alleati gli archetipi possibili ovviamente sono tantissimi e bisognerebbe avere un intero canale solo dedicato a quello anche solo per cercare di fare una lista vagamente completa quindi andiamo a concentrarci soltanto su quelli più utili e famosi per farvi capire come funziona tutto il gioco e cominciamo da uno di quelli che ci è già capitato di citare più spesso il mentore e quel personaggio che aiuta i protagonisti a orientarsi migliorarsi e sopravvivere all'interno della loro stessa storia la sua principale funzione è quindi quella di essere la guida dei personaggi e quasi sempre è un personaggio in qualche modo amichevole se non paterno nei loro confronti anche se questo non è del tutto necessario anzi ci sono vari esempi di mentori che non sono affatto affabili nei confronti dei personaggi e anzi a volte li maltrattano proprio o sono figure distanti assenti che non hanno un ruolo personale con il protagonista cui fanno da mentore ovviamente la sua funzione principale all'interno della storia è quello di spiegare ai personaggi giocanti e di conseguenza ai giocatori che cosa sta succedendo all'interno della storia e che cosa loro debbano fare per riuscire nel loro intento qualunque esso sia a seconda del tipo di storia che state raccontando potrebbe essere un entità mistica semidivina dotata di poteri magici che avvisa gli eroi delle nobili imprese che dovranno compiere come potrebbe essere il ripper doc che ha il suo ambulatorio nello sprawl e dice ai cyberpunk dove trovare gli innesti migliori più a buon mercato al contrario del mentore l'apprendista è un personaggio che non ha particolari capacità o conoscenze che gli permettano di navigare l'ambientazione anzi lasciato solo potrebbe essere in gravi problemi ma che ha altre qualità che possono essere utili se non indispensabili al resto del party a volte l'apprendista è un vero e proprio studente di uno dei personaggi giocanti o dell'insieme dei personaggi giocanti che li per imparare da loro altre volte è semplicemente un personaggio associato al party ma che è più debole meno competente dei personaggi giocanti ma che comunque è in grado di fare qualcosa che il party ritiene estremamente utile e quindi continua a tirarselo dietro o comunque offrirgli rifugio e riparo la classica figura del gregario del seguace di cui abbiamo parlato qualche video fa rientra quasi perfettamente nell'archetipo dell'apprendista probabilmente all'interno del mondo del gioco di ruolo l'esempio più classico dell'apprendista è il netrunner di cyberpunk un personaggio che ha la capacità unica di interfacciarsi con la rete informatica ma che quando lo fa è virtualmente inerme come se entrasse in coma e comunque in linea generale non ha chissà quali capacità di combattimento di conseguenza il resto del party è grosso modo costretto a difenderlo se vuole poter adoperare le sue abilità per entrare in rete e farsi hackerare le cose per rendersi più facili le quest molto spesso i png con cui i personaggi dovranno andare a interfacciarsi saranno lì perché o i personaggi giocanti hanno bisogno di qualcosa da loro o perché sono questi png ad aver bisogno di qualcosa dai personaggi anche in questo caso abbiamo due archetipi fondamentali la principessa è probabilmente uno degli archetipi più diffusi in assoluto ed è quel personaggio che si trova in qualche tipo di difficoltà all'interno della storia e ha bisogno dell'intervento dei personaggi giocanti per uscire dall'impaccio e risolvere il suo problema il troppo prende proprio il nome dal classico cliché della principessa è stata rapita e rinchiusa nella torre e il cavaliere deve andarla a salvare non fatevi però ingannare dal nome ovviamente il personaggio non deve essere una principessa non deve essere neanche un personaggio femminile qualunque personaggio potrebbe diventare una principessa all'interno dell'economia della storia nel classico caso in cui il villaggio sta per essere attaccato dagli orchi e gli eroi devono difenderlo l'intero villaggio è la principessa che deve essere salvata non necessariamente il problema della principessa deve neanche trattarsi di un qualche tipo di minaccia fisica potrebbe essere un png che ha semplicemente bisogno di un consiglio per non commettere un errore nel mondo del gioco ruolo nello specifico molto spesso il problema della principessa è la mancanza di qualcosa la classica quest in cui un png ha bisogno che i personaggi vadano da qualche parte per conto suo magari gli procurino qualcosa rientra nell'archetipo della principessa lo scienziato deve fare un esperimento ma ha bisogno di un particolare oggetto una particolare sostanza che solo i personaggi giocanti possono andare a recuperargli perché si trova in una zona troppo pericolosa quindi non può andarci lui da solo questa sarebbe una principessa il nestore è quel png che ha qualcosa che serve ai personaggi giocanti e quindi al contrario della principessa non ha bisogno del loro aiuto ma saranno gli eroi ad aver bisogno dell'aiuto del nestore perché gli fornisca la cosa che ha per permettergli di proseguire nella loro impresa molto spesso questo personaggio per la funzione che svolge all'interno della storia è semplicemente chiamato il re almeno nell'archetipo adattato al fantasy nella fattispecie il nome dell'archetipo deriva proprio da nestore che era il re di pilo nell'iliade nell'odissea che era un uomo estremamente saggio e dava saggi consigli agli eroi che gli chiedevano ma solo se questi eroi erano suoi alleati perché come ho detto era un uomo estremamente saggio non è che vai aiutare degli sconosciuti non è strettamente necessario perché dipende dal tipo di storia ma quasi sempre il nestore è un png che è in qualche modo più potente dei personaggi giocanti o comunque si trova in una situazione tale per cui i personaggi giocanti non possono semplicemente pretendere il suo aiuto o minacciarlo nel caso non voglia aiutarli dipende appunto da qual è il tipo di quest comunque il nestore è qualcuno con cui i pg debbano contrattare in qualche modo per avere il suo aiuto non basta che sia un qualsiasi png da cui l'aiuto può essere preteso potrebbe essere il classico png l'alto chierico il potente mago che hanno l'artefatto che serve ai personaggi ma finché questi non dimostreranno il loro valore compiendo un'impresa non glielo darà potrebbe semplicemente essere il ricco corporativo che è disposto a finanziare l'impresa dei personaggi giocanti fin tanto che questi non gli facciano cattiva pubblicità e lo trattino con il rispetto che lui ritiene di dover meritare esistono poi archetipi dei personaggi che sono principalmente utili per lo sviluppo dei personaggi giocanti stessi soprattutto in quei giochi in cui il risvolto psicologico dei personaggi è più importante che le loro capacità di combattimento il riflesso è sicuramente un personaggio simpatetico nei confronti del party ma che se ne discosta per metodi o per ideali il nome dell'archetipo deriva proprio al fatto che dovrebbe essere una sorta di riflesso distorto di quello che i personaggi avrebbero potuto o avrebbero dovuto essere che cosa venga riflesso dal riflesso dipende dai temi e dai toni della quest ovviamente potrebbe essere un ideale morale o politico il party di nobili avventurieri che deve sconfiggere il signore del male avrà tra i suoi alleati un altro party di avventurieri che però potrebbero essere molto meno nobili e ideaisti e ricorrere a mezzi molto più grezzi e diretti per combattere il signore del male perché alla fine l'importante è sconfiggere il male non farlo nella maniera cavalleresca o potenzialmente anche il contrario un party dalla moralità molto più grigia se non un party di personaggi malvagi potrebbe vedersi riflesso in un altro party effettivamente di nobili eroi potenzialmente però il riflesso potrebbe essere qualcosa anche di molto più sottile quando gli eroi una volta finite le loro eroiche imprese tornano in taverna incontreranno il barista con il suo personale di servizio che non vivono una vita eroica anzi hanno una pacifica vita nel paradiso agreste del villaggio dove non succede mai niente e loro vivono felici servendo le persone nel loro locale che è esattamente il contrario di quello che i personaggi fanno per vivere e quindi è il riflesso di quello che avrebbe potuto essere la vita dei personaggi se fossero uomini pacifici l'interesse romantico è uno di quegli archetipi che sembra ovvio ma che in realtà richiede una spiegazione perché ovviamente l'interesse romantico è quel png con cui uno dei personaggi ha interesse ad avere un rapporto di coppia ma non necessariamente ogni personaggio che abbia una relazione di coppia è per forza da considerarsi un interesse romantico questo archetipo si riferisce nello specifico a un personaggio che sia l'interesse romantico di uno dei personaggi giocanti ma che il loro rapporto sia almeno inizialmente conflittuale e che quindi la conquista dell'interesse romantico sia una parte importante delle motivazioni di quel personaggio giocante o di quei personaggi giocanti potrebbe anche darsi infatti che l'interesse romantico sia l'obiettivo della conquista di più personaggi giocanti all'interno del party e che il conflitto esistente attorno a quel personaggio sia appunto quale dei personaggi riuscirà a conquistare l'interesse romantico tutto questo ovviamente nel caso il master sia una donna noi maschietti siamo molto più gretti e ci piacciono gli harem e le esplosioni a seconda della situazione l'interesse romantico potrebbe aiutare il party o anche ostacolare il party nel caso abbia un punto di vista diverso a loro su quello che sta succedendo e il fatto di convincere l'interesse romantico della giustezza delle proprie posizioni potrebbe essere il motivo del conflitto che c'è dietro la conquista dell'interesse per dirla semplicemente il fatto che un personaggio sia sposato non vuole automaticamente dire che lo sposo allora sia l'interesse romantico a meno che le azioni che il personaggio farà durante la quest non rischiano di mettere in crisi il loro rapporto e allo stesso motivo il fatto che uno dei personaggi rimorchi la cameriera del locale non fa della cameriera l'interesse romantico a meno che non diventi un personaggio ricorrente che possa portare dei ganci narrativi per le quest del party riferiti proprio a se stessa ovviamente non è necessario che ogni singolo png che entri nella vostra campagna rispecchi in qualche modo uno di questi archetipi e non è neanche detto che uno stesso png non possa ricadere in più di un archetipo contemporaneamente ad esempio volendo andare proprio sul banale perché banale è bello l'interesse romantico di uno dei pg durante il corso della campagna verrà rapito da il signore del male per quell'arco di campagna l'interesse romantico fungerà da principessa perché i personaggi giocanti dovranno andarla a liberare potenzialmente anche il nestore che aiuta i personaggi per interesse dopo che loro avranno fatto varie missioni per lui e magari dopo che lui è diventato la principessa lo avranno salvato potrebbe decidere che adesso i personaggi gli stanno simpatici e quindi gli rivelerà delle informazioni segrete e gli aiuterà in maniera disinteressata passando da essere nestore a essere la principessa a essere il mentore del party tutto magari una stato per ogni atto della quest diciamo che il discorso adesso è chiaro ovviamente di archetipi ci sono molti ma non posso stare qui ad elencarli tutti anche perché questo video è già durato fin troppo quindi per questa settimana la chiudiamo qui ma torneremo tra un paio di settimane di nuovo sull'argomento perché dobbiamo parlare dell'altro lato della medaglia cioè gli archetipi degli antagonisti del party fino ad allora la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se voi avete mai utilizzato questi archetipi se li avete usati senza sapere che cosa erano se magari avete usato altri archetipi diversi che io qua non ho citato scrivere tutto nei commenti può servire anche agli altri come informazione suppletiva quello che abbiamo detto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete la curta cresce del canale iscrivetevi e schiacciate la campanella per ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link ai social del canale dove si raduna anche tutta la community e ogni tanto partono delle bizzarre imprese come sempre io sono il master cae e noi ci rivediamo nel prossimo video